Questo è un corniolo. L'albero ha il significato dell'amore contro ogni avversità. Nello zodiaco celtico è l'albero dei nati fra l'1 e il 10 di aprile. Ci sono persone che sono capaci di tirare fuori il meglio di sé anche in momenti difficili. Hanno una mente vivida, vitale, aperta, con un ottimo senso dell'organizzazione, caute e con un profondo rispetto per le persone e per le cose che li circondano. Sono degli ottimi mediatori perché con empatia cercano sempre l'armonia e l'equilibrio tra le persone che amano. A volte però questo potrebbe essere un punto debole quando se ne preoccupano eccessivamente e mettono se stessi al secondo posto. A volte il senso di cautela e di imparzialità in cui credono fortemente insieme al dubbio e all'eccesso di umiltà li rende insicuri delle loro capacità e rischia di renderli indecisi e di congelare la loro spiccata capacità ad agire. I namore sono di natura romantica, sensibili e premurosi, a volte inaffidabili. Ma più di tutto chi gli sta vicino deve accettare il senso di responsabilità che si prendono con la comunità e con i loro amici. L'amore è contro ogni avversità. Vero Nicchetta? Vero Nicchetta? Al dubbio? No! Maniche! Ok.